buongiorno a tutti sono monica sirelli dal sito www e ft trattino azione punto it e dal canale youtube e ft trattino azione e parliamo oggi del cambiamento e sappiamo che siamo in un momento di cambiamento profondo siamo in questi giorni appunto con il covid 19 e questo sta trasformando le nostre vite trasformando le nostre vite e potrebbero esserci anche delle situazioni ovviamente che stanno portando dei cambiamenti sul nostro stile di vita ma stanno anche portando forse porteranno anche dei cambiamenti nel nostro sistema di consumi e anche nel nostro sistema mentale e quindi l'uomo prende il cambiamento noi abbiamo un'idea di cambiamento sempre molto negativa c'è un'idea di cambiamento che possa essere di perdita di qualcosa quando pensiamo al futuro spesso c'è paura di perdere ciò che abbiamo le persone che amiamo le persone le cose che abbiamo il denaro che abbiamo la posizione che abbiamo quindi quasi come un demone che ogni volta abbiamo qualcosa che ci piace c'è il goderselo ma anche quasi il timore che questa cosa possa essere una perdita e quindi vorrei proprio oggi lavorare su questo tema che è molto universale che è molto che coinvolge tutti noi con queste paure del cambiamento che il cambiamento sia necessariamente una cosa negativa e quindi partiamo dal punto karate e proprio ripetiamo lascio andare questa idea questa paura che il cambiamento sia qualcosa di negativo respirate questa paura del cambiamento questa percezione negativa che ho del cambiamento fate un respiro ancora un respiro sopra la testa la paura di perdere ciò che ho quando penso a un cambiamento penso sempre a qualcosa di negativo respira e vorrei giusto per essere sempre pratici come è molto pratico soprattutto il nostro lavoro che pensate a una cosa che avete paura di perdere in questo momento una cosa una persona respirate centro dell'occhio recupero tutta la mia energia vitale legata alla paura di perdere quello che è quello che è e la riconduco al giusto posto in me respiro lato dell'occhio e se arrivasse qualcosa di meglio e se non fosse una perdita sotto l'occhio sotto l'occhio smetto di guardare questa situazione con gli occhi della paura con gli occhi dell'ansia della tristezza della preoccupazione della solitudine della rabbia e le emozioni che mi vengono in mente respiro sotto il naso liberando la situazione dalle mie emozioni resta un fatto una storia che non c'è più sotto la bocca allontano tutta l'energia non mia rimasta congelata in questa storia in questa resistenza al cambiamento da ogni mia cellula da ogni mio corpo e da tutto il mio spazio personale e la rimando al vero posto al vero tempo e al vero sé a cui realmente appartiene respira clavicola e se lascio andare l'emozione negativa la storia contenuta in questa paura del cambiamento in questa resistenza al cambiamento cosa rimane? il punto del timo il fatto è la mia opportunità di capire come può essere un vantaggio per me qual è il mio guadagno qual è il mio vantaggio qual è la risorsa contenuta in questo cambiamento respiro come dice Sibaldi ci sono due modi per vedere un evento un modo è perché è capitato proprio a me e quindi cosa ho sbagliato viene dal passato e contiene colpa un altro modo è cosa mi sta preparando cosa sta facendo la vita per me cosa mi sta preparando che mi sta facendo arrivare la vita attraverso questa cosa il dono contenuto in questa cosa quindi qualcosa che viene dal passato e contiene colpa qualcosa che va nel futuro e contiene fiducia respira respira sotto l'ascella grazie per questo cambiamento e grazie perché in questo cambiamento torno alla fiducia in me sotto il seno questa cosa questa persona questa situazione a cui mi ero appoggiato a cui mi ero appoggiata tabacchiera e questo cambiamento che non avrei mai fatto forse che ho fatto perché sono costretta a fare proprio per questo mi prendo tutto il movimento della vita e lo lascio entrare respiro gamut cosa sta arrivando faccio spazio al cambiamento e informo tutte le mie cellule e tutto il mio DNA e tutto il mio inconscio che tutti i miei cambiamenti sono positivi che tutto mi porta molto più di quanto va respira punta le dita e informo tutta me stessa che sto ricevendo molto più di quanto sta andando anche se ancora non so come anche se ancora non so da dove anche se ancora non so in che forma lo lascio arrivare respira passo dal dalla sensazione di perdita del cambiamento alla sensazione di risorsa del cambiamento il cambiamento è la mia risorsa respiro buona pratica e facendo quest'audio sentite anche come la leggerezza o la resistenza quindi resistenza a continuare a rifare fino al punto in cui si sfalda tutta la resistenza dell'ego e rimane solo la verità di chi siete e se sentite che emergono dei pensieri chiaramente vanno indagati potete indagarli da soli o potete indagarli in questi giorni in cui siamo a casa anche attraverso una guida un insegnante di ft che può proprio aiutarvi in questo percorso di trasformazione quindi approfittiamo di questi giorni proprio per questo lavoro buona pratica ciao a presto